Porte e menti aperte al futuro. Con questo titolo il Museo Maxi dell'Aquila ha presentato il programma del 2022 con nuove mostre, progetti e collaborazioni. Occasione utile per fare un bilancio dell'anno passato, o meglio dei primi nove mesi di apertura, alla presenza dell'assessore comunale Fabrizio Aquilio, del segretario generale della Fondazione Maxi Pietro Barrera, del direttore del Maxi dell'Aquila Bartolomeo Pietro Marchi. In un momento in cui la cultura ha sofferto a causa della pandemia, il Maxi ha registrato numeri record tra i migliori dieci musei inaugurati nel 2021 in Italia e nel mondo. Un miracolo a cui abbiamo concorso in tanti, la città dell'Aquila prima di ogni altro. Abbiamo visto sui giornali di questa mattina che durante la pandemia sono chiusi forse per sempre il 15% dei cinema italiani. Un'indagine che è stata presentata a fine gennaio ci ha spiegato che nel 2021 i visitatori dei musei italiani sono calati del 36%. In un momento in cui l'Italia della cultura chiudeva si è aperto un nuovo museo. Un nuovo museo che è stato visitato soprattutto da Aquilani e da Abruzzesi è veramente un miracolo, una gioia incontenibile. Il programma delle prossime attività è stato illustrato dal direttore Pietro Marchi. Si parte già a marzo con le prime tre committenze realizzate in collaborazione con Munda e Gran Sasso Science Institute e con la mostra di cinque fotografi, mentre a luglio spazio ad After Image, collettiva internazionale. Tornerà a settembre per formative e ci sarà la prima edizione di NXT, realizzata in collaborazione con il Comune, concorso a inviti per giovani architetti per un'installazione temporanea a Piazza Santa Maria Paganica dedicata agli eventi estivi. A fine febbraio approfondimenti culturali in museo con un documentario sul maestro Ettore Spalletti e tante attività per famiglie, studenti e adulti, laboratori inediti e visite per le scuole, corsi di alta formazione. I prossimi appuntamenti saranno già subito all'11 marzo con l'inaugurazione delle prime tre committenze, quelle che abbiamo realizzato con il Munda e con il Gran Sasso Science Institute, proprio in queste sale, che sarà tutto un nuovo allestimento di tutto il museo e una grande mostra di cinque fotografi italiani, importanti che stanno davvero prendendo la scena in questo momento. Cassa Depositi e Prestiti e Biperbanca continueranno a sponsorizzare gli incontri dedicati all'editoria, importanti anche le attività di promozione e marketing, ci saranno promozioni speciali e scontistiche particolari. Grazie a tutti.